Basta gliela Benni! Sì, lo faccio. Vai, 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 avanti, va. Guarda. Vai, fai. No, sì, va bene. Guarda l'ultimo, guarda. Oh! Eh, che cazzo! Va bene, andiamo. Esco! Nonончio. Non brutta. Si, si, lento. Corso. P Jetett. Ehi, hei. Sopriamo. Ehi. Vaffassare. Qua tanto, torei. Se già. Ehi, levante. È l'ultimo che, Grazie per la visione! Non ci credi? Ci credi? Ci credi? Ci credi? Ci credi? Ti ha svenuto la presa Ti ha svenuto la presa Perché sti lanci lunghi? Perché? Digglielo quando non lanci lunghi Distanza al vidro Sì, sì, ora sì Ma va, guardalo Tira Bravo, questo mi piace Lo rompiamo Lascia la rompiamo adesso Minchia occhia la videocamera Posso riprendere col telefonino Manca quella di prima con me In quale pagina? Che pagina? Il gruppo su Facebook è Quadrifoglio Football Club Ti fa aggiungere da bene Ok Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Giusto Giusto No c'è Deve aspettare che fischi E che c'è No c'è No c'è No c'è No c'è No c'è Ehi No c'è Ehi ha fatto la pinto ho messo la prova capito bella ballo ma che solo non c'è nessuno in difesa salvo l'ultima dalla difesa giurissimo giurla ballo 2 3-2 3-2 ci fai caso ci trova male grazie grazie